Quali comportamenti di autoprotezione mettere in atto quando si verificano calamità naturali, terremoti, maremoti e, scenario non infrequente nel nostro territorio, inondazioni e dissesti idrogeologici? In occasione della campagna nazionale Io non rischio, volontari di protezione civile in piazza a Sondrio per spiegarlo ai cittadini ed in particolare ai giovani che non hanno un ricordo diretto dell'alluvione dell'87, ma attraverso testimonianze, immagini, letture devono prenderne consapevolezza. Tenendo in considerazione solamente le ultime disastri che ci sono stati, nel 1983 a Tresenda e nel 1987, non solo in tutta la Valtellina, ma diciamo che in tutta la Lombardia ci sono stati dei dissesti, siamo anche qui per spiegare che cosa si potrebbe fare in caso di allarme che vanno dall'allarme giallo all'allarme rosso e come posizionarsi in queste situazioni evitando di rischiare di persona per andare a salvare un motorino dal garage piuttosto che tirare su una macchina dal stesso garage, oppure passare sotto un sottopasso dove vediamo dell'acqua, cerchiamo di evitarlo oppure di camminare quando si è in casa che viene un momento di terremoto, di evitare di camminare sotto i cornicioni dei palazzi o di stare in mezzo a una stanza, stiamo sotto i muri importanti che cerchiamo eventualmente di limitare i danni. Anche i cittadini devono sentirsi parte integrante del sistema di protezione civile ed è essenziale che sappiano come comportarsi in caso di emergenza. A Sondrio, il gruppo di protezione civile per questo è pronto a ricevere e formare aspiranti nuovi volontari. Testimonial della campagna Io non rischio per la nostra provincia, l'alpinista Marco Confortola. Sono veramente onorato di essere il testimonial di questa manifestazione in qualità di guida alpina, di elissocorritore, di testimonia di rifugio di Lombardia perché la montagna va assolutamente abbandonata. Penso che sia importantissimo far capire alle persone che viene dall'alto il problema, le inondazioni, il discorso boschivo eccetera. Bisogna far sì che le persone restano in montagna a coltivare la montagna, a vivere la montagna. Infatti io dico sempre che i custodi della montagna sono i malgari, gli agricoltori, le guida alpine, i rifugisti e i montanari. Un'altra cosa importantissima è riuscire a fare informazione nelle scuole, riuscire a far capire ai giovani che sono il futuro del mondo l'importanza di tutto questo, della bellezza alla montagna per non trovarsi poi in situazioni difficoltose. Un'altra cosa che va veramente sottolineata è riuscire a far tornare i giovani verso la montagna, riuscire a far sì che queste persone possano trovare una loro economia per mantenere la bellezza che abbiamo. Grazie. 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 Grazie.